Buongiorno, buongiorno da Samwer. Oggi voglio parlarvi di un piccolo segreto contenuto all'interno del palazzo più aulico del centro torinese, vale a dire il Palazzo Reale. Un palazzo complesso il cui cantiere, le cui trasformazioni occuperanno ben tre secoli di storia, grossomodo dalla metà del Seicento a metà dell'Ottocento e che nasce un po' su alcuni resti delle antiche mura del Palazzo del Vescovo. La prima delle campagne decorative, che vedrà poi il trasferimento dei Savoia a Palazzo Ducale, viene inaugurata negli anni Sessanta del 1600 e in quell'epoca l'edificio, che costava già di tre piani fuoriterra, vedeva un collegamento tra il primo e il secondo piano costituito da una scala di legno che doveva collegare gli appartamenti di rappresentanza e gli appartamenti della famiglia Ducali a quelli del piano superiore destinati in futuro agli eredi. Tale scala però, anche probabilmente un po' vecchiotta all'inizio del 1700, sarà all'origine di una risistemazione dei luoghi interni che varrà affidata all'architetto Filippo Juvarra. Quel Filippo Juvarra che troviamo un po' dappertutto, passeggiando a Torino, che ridisegnerà assolutamente la città, ma che realizzerà dei piccoli gioielli all'interno di alcuni edifici, come è il caso della Scala delle Forbici, di cui forse avete sentito parlare. Nel 1722 infatti si doveva celebrare il matrimonio tra Carlo Emanuele III, il figlio di Vittorio Medio II e Anna Cristina di Baviera. Era necessario quindi trasformare questa scala linea in una scala monumentale, una scala che avesse un'impronta di carattere aulica. Purtroppo lo spazio a disposizione era davvero esiguo, un rettangolo di 66 metri quadrati che doveva superare un dislivello di ben 10 metri. Molti architetti avevano provato a realizzare questo collegamento, ma ne veniva fuori una scala assolutamente ripida e quindi non di rappresentanza. E così l'incarico verrà dato a Filippo Juvarra. A corte si scommetteva sulla sua capacità di risolvere questo problema, ma lui ci riuscì mirabilmente. A corte naturalmente le male lingue vociferavano su quello che ne sarebbe venuto fuori e così Juvarra lavorerà a porte chiuse, realizzando un'idea geniale. La scala sarà costituita da ben tre rampe. Una prima rampa centrale, sontuosa, molto elegante, che a destra e a sinistra lasciava degli spazi liberi con due arconi su cui poggiavano due rampe laterali che salivano verso l'alto e coprivano metà dell'altezza, ma da quel punto una nuova rampa unica che quasi come un ponte aereo si gettava in volo verso l'ingresso degli appartamenti dei giovani sposi. Il tutto realizzato con quella sapienza decorativa con cui Juvarra rifiniva mirabilmente le sue opere, nel gusto della più squisita Roccaille, non dimenticando ovviamente i simboli del potere, il collare dell'annunziata e le iniziali dei Savoia. Ma la cosa più curiosa di questa scala è che Juvarra farà realizzare anche degli ovali decorativi all'interno dei quali si vede il volto di un cortigiano e sotto un paio di forbici proprio come queste che dovevano servire a tagliare la lingua ai cortigiani che non gli avevano dato fiducia. E quindi proprio per questo, oltre che per la sua forma peculiare, verrà chiamata la scala delle forbici.